Riproponiamo e quasi in modo quasi, appunto, rompiamo questa magia di Vanni e Gessica per cui dobbiamo essere Ivano e Moreno ed Enza ancora più bravi Enza Sesta Tu sei stata, guarda, io te lo dico da regista tu sei stata in Grande e Grosse Perdure, sei stata molto, molto più brava di Viaggino L'episodio nostro, di Grande e Grosse Perdure, è un grande episodio perché è recitato molto bene poi c'è il figlio che chiaramente è uno degli episodi, è italiana la differenza, il potere di Ivano e Gessica Steven Steven, e devo dire che Claudia l'ha